porta cervese costruita dalla famiglia malatesta e così denominata per il collegamento stradale alle saline di cervia la porta cervese detta porta del sale era l'accesso della via che collegava sant'arcangelo a cervia nota per le saline da qui passavano verso l'entroterra i carichi di sale bene prezioso per conservare il cibo costruita dai malatesta era munita in origine di un ponte levatoio di cui mostra ancora oggi le corsie per lo scorrimento degli assi è l'unica porta d'accesso rimasta delle quattro attraverso le quali si entrava nel borgo medievale la porta appartiene alla seconda cinta muraria iniziata da carlo malatesta alla fine del quattordicesimo secolo e fortificata con appositi torrioni dal nipote sigismondo pandolfo nel 1447